Viene bene? E' che poi aspettavo, quando si fatti la roba? Chi le dà a mente che sono infame e cattivi, che scornacciati, che ne corrono? Che noi dall'anno ne hanno chiamato manca a ripiedere la mamma, giusto? Stavano fottendo. La festa della mamma faceva un regalo napoletano. Immi da faccia posta a tutti gli uomini dell'Italia, del mondo, e a quella squadra ci facciamo che siamo andati su qualche tiffo. Sempre Forza Napoli ragazzi!